Vediamo rapidamente qualche calcolo del pH, qualche esempio. Per esempio, se abbiamo una soluzione a concentrazione degli ioni idrogeno che è 0,004, come facciamo a calcolare il corrispondente pH. Il pH è semplicemente un altro modo di esprimere la concentrazione con un numero più semplice, diciamo. Un numero che corrisponde alla potenza di 10, all'esponente, è cambiato di segno, della potenza di 10 di questa cosa qui. Quindi io devo scrivere la concentrazione con la potenza di 10. Ora, se io la scrivo come per quello che è, cioè 4 per 10, perché qui abbiamo il 4, che moltiplica 10 alla meno 4, che sarebbe 10 alla meno 4 da solo. Questo qui sarebbe 0,301. Quindi 4 che 10 alla meno 4 non è una potenza di 10, perché c'è anche il 4. Quindi, come dobbiamo fare? Per trovare la potenza di 10, che è, quindi sarebbe 10 alla meno pH, quindi il pH che noi troveremo cambiato di segno e messo qui, senza il 4 davanti, deve corrispondere e quindi essere sempre uguale. Sottolineiamo questo uguale come lo era prima e come lo era questo. Quindi dobbiamo, stiamo parlando sempre della stessa concentrazione, cioè la concentrazione degli ioni idrogeni. Il punto è come si fa a trovare questo valore qui. Per trovare questo valore qui bisogna fare, come abbiamo visto, l'operazione, il logaritmo, si deve prendere una calcolatrice scientifica. Quindi la prima cosa da fare è scrivere il numero che rappresenta il pH, quindi io scrivo i tasti che digito sulla calcolatrice sono il 4, poi non digito il per, perché nel momento che io premerò il tasto exp avrò fatto per 10 alla. Quindi io qui digito il tasto exp e poi scrivo l'esponente. Prima devo scrivere il meno, per scrivere il meno non scrivo il segno o meno quello che serve per fare l'operazione di sottrazione, ma scrivo il tasto più o meno, in qualche calcolatrice si trova il meno tra parentesi, che serve solo per cambiare segno. Quindi scrivo questo cambio di segno, poi scrivo 4 di nuovo che è l'esponente negativo. Quindi 4, ho scritto 4 per 10 alla meno 4. A questo punto con il dato che ho sulla calcolatrice premo il tasto log, che è il logaritmo in base di 10. Il risultato è, quello che ottengo è 3,398, però con il segno meno davanti. A questo punto questo sarebbe l'esponente di 10. Quindi io qui posso scrivere che questo risultato è 10 alla meno 3,398 e quindi il pH non è altro che il valore cambiato di segno di questo esponente. Rotondiamo a 3,40. Quindi posso dire che il pH è uguale a 3,40. andrà. Grazie. Grazie a tutti.